Buongiorno ragazzuale, buona partita! Buongiorno ragazzuale, buongiorno, 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 buongiorno! Buongiorno ragazzuale, buongiorno! Buongiorno ragazzuale, buongiorno! Buongiorno ragazzuale, buongiorno! Buongiorno ragazzuale, buongiorno ragazzuale, buongiorno! Cario, Samantha, vieni, professore, prendi la sua casacca. Eli va dall'altra parte. Si è rimetta. La prima cosa ha fatto il torneo, ha fatto tre golle di Svizzera interna. Anche sono partito alle 7 del mattino, sono tornato alle 10 di sera. Accentrati! Tira! Per avvolter sotto cielo! Angolo, angolo! Passiamo, passiamo! Via, via, via! Meglio, meglio! Bella! Bella! Eh, bravo questa cosa! Ha il senso del gol! Decisione! Forza! Se mi scarica la pila! Forza, madonna! Fuori! 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 Giada! Prendilo! E' il pulso! Paniera... oh no, riaudato! Fa' un paio! Adesso le tiri una dose e fa che me ne... Manu! 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 Manu, non troppo, non troppo! E' una presa! E' bravo! Buongiorno! Manu! 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 Wow! Manu! 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 Gira! 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 Bellissima palla! Bella palla! Perfetto! Gira! Che ti sbagli la faccia! Così! colpita colpita bella per e via ciappa forse uno l'ho zaccato per e via ciappa 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 aci shore a сделал Grazie a tutti 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 Grazie a tutti